ciao a tutte allora intanto state vedendo scorrere delle immagini che sono le nail art che ho realizzato nella tappa di modena e nel frattempo ne approfitto anche per dirvi di un cambio ovvero non sarò più alla tappa di napoli bensì sarò alla tappa di reggio calabria perché per motivi organizzativi ci siamo dovute appunto organizzare così e quindi maddalena sarà il posto mio a napoli ed io sarò invece a reggio calabria e vi metto il link dell'evento come sempre nel box informazioni perché benché gli orari restano sempre comunque dalle 10 mattina alle 7 di sera c'è un piccolo cambiamento nel senso che questa tappa qui non sarà fatta di sabato e di domenica come per le altre ma avverrà di venerdì e sabato quindi comunque io vi linko l'evento nel box informazioni così potete vedere via giorni e tutto e cos'altro volevo dirvi niente io spero che comunque le proprietarie delle delle mani che state vedendo possano comunque trovare piacere nel rivedersi appunto online le ringrazio ancora tutte una ad una perché sono state veramente cioè gentilissime dolcissime e mi sono divertita davvero tanto e quindi sì ecco questo fiorellino l'ho fatto praticamente per due giorni di seguito perché è stato quello più richiesto comunque vi lascio al resto delle immagini sarebbe carino se qualcuna che si riconosce comunque scrivesse qual è la sua mano non so sarebbe divertente e niente io allora vi saluto vi mando un bacione e per chi è di reggio calabria ci vediamo quindi a reggio per le ragazze di napoli volevo dirvi che io sarò alla fiera estetica non sicuramente l'ho pronunciato male non mi sono mai soffermata a leggerlo bene comunque la fiera dell'estetica che si svolgerà a novembre a napoli io andrò e quindi se siete di zona se pensate di venire insomma sicuramente ci incontreremo in quell'occasione e quindi mi fa veramente molto molto piacere quindi niente con questo direi che è tutto ah io ecco appunto mi stavo dimenticando ma tanto sicuramente lo dirò anche in un altro video che io in quell'occasione andrò il sabato quindi sabato 10 novembre in eventuali cambi di cose ve li comunicherò comunque niente con questo è tutto e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao